montiamo adesso questo sovrapporta allora prima di tutto vorrei fare un piccolo ripasso su come si prepara un ramo di foglie perché i rami di foglie sono importantissimi nei nostri lavori io ho preso un pezzo di alluminio da due millimetri e mezzo e l'ho rivestito con un tubolarino di cotone ecco qua adesso lo inserisco tutto quanto all'interno e vado a chiedere chiudere con dei nodi le estremità taglio l'eccedenza e l'eccedenza di qua adesso io mi sono già preparata delle foglie che ho tagliato e preparato montato con un filo con un filo animato all'interno che arriva fino alla punta e sono foglie che ho tagliato con la fustella del tripudio che ha una serie di foglie di questa dimensione e anche più grandi allora vado a legarle cominciando dall'alto se vi fa piacere potete direttamente incollare le due foglie chiudendo l'inizio del ramo oppure cominciate da un po più giù questo lavoro io lo sto facendo intorno a un ramo voi potete farlo anche già intorno al ramo al gambo del vostro fiore per esempio stringete bene altrimenti le foglie vi si spostano mettiamo l'ultima foglie ogni vostro lavoro ne guadagnerà con un po di foglioline ecco adesso abbiamo preparato il ramo che andremo a inserire nel momento appunto in cui noi completiamo questo sovrapporta la parte sinistra è già stata montata e fissata in modo che voi la possiate già vedere e adesso vi vado a mostrare come preparerò la parte di destra allora innanzitutto ho legato il trionfo il fiore del trionfo ho fatto due anelli concentrici e poi le foglie che continuano a lungo e si arrotolano e li ho fissati in questo punto così cercando di tenere il fiore il più possibile vicino alla legatura in modo che lui starà più fermo e ho creato questi anelli giusto per fare un po' di un po' di volume la stessa cosa ho fatto col fiore del trionfo piccolino lo stesso l'ho fermato come vedete su un ramo ecco andiamo adesso a spendere due parole su come io ho preparato la base del mio sovrapporta allora io ho utilizzato qui dei rami sintetici che avevo molto robusti li chiamano rami di salice ma voi potete appunto sostituirli con qualsiasi tipo di di foglia che trovate appunto in commercio quelli che sono poi determinanti sono questi rami questi rami sintetici questi sono proprio dei rami che riproducono il ramo nel vero senso della parola questi io ne ho utilizzati due e però voi appunto potete fare anche tutto con i rami sintetici sostituendo questi qui verde chiaro ecco poi teniamo le foglie come ultimo come ultimo lavoro inseriamo per prima cosa questo ramo pieno di boccioli ricadenti e lo fermiamo facciamo girare dietro al fiore e facciamo in modo che scenda al centro del del nostro sovrapporta in modo che sia come un ramo che si è perso e scende da solo così per riempire questa questa parte quindi io lavoro sempre con i filetti di animati il segretario che mi suggerisce col filo animato voi andate benissimo perché ha un'anima di metallo e quindi andate bene perché è molto molto resistente insomma io chiudo molto stretto questo ramo in questo caso io devo fermare anche questa parte altrimenti questo mi si muoverà sempre quindi lo faccio aderire al mio lavoro e qui dietro lo vado a fermare questo verrà dovrà essere assolutamente ancorato in due punti perché non c'è nulla che lo può fermare altrimenti di si muove dopo di che ci mettiamo avviciniamo il nostro fiore principale e inseriamo i settembrini allora naturalmente li faccio passare sotto hai tutti i vari elementi li faccio passare e dopo li riapro vedete qui ho legato le foglie con il sistema che vi ho mostrato prima vedo di fare un lavoro equilibrato anche con la parte di qua questi adesso sono troppo bassi quindi li tiro un po' più su adesso i miei settembrini sono al posto giusto mi sembrano abbastanza equilibrati e quindi vado ad attaccare belli stretti i settembrini e qui settembrini non avranno bisogno di essere ancorati in un altro punto perché sono già posizionati in mezzo ai rami e da qua non si sposteranno diverso era questo ramo qui perché questo qui non aveva altri punti di ancoraggio che questo è il gambo sarebbe andato in giro adesso possiamo a posizionare il nostro fiore il nostro nuovo fiore lo porto al centro del lavoro così mi sembra che sia sistemato adeguatamente adesso devo trovare un ramo ecco qua che mi permetta di ancorarli e l'ho trovato adesso lo stringo forte questo ramo è molto lungo e non ha supporto quindi questo ramo va sicuramente ancorato un'altra volta e quindi ho trovato qui un punto buono per fermarlo e lo fermo so fare anche due giri così il lavoro è sicuramente più stabile ogni volta riassetto tutto il lavoro questo deve stare rivolto verso mi piace di più che stia verso l'alto adesso vedo se resta fermo altrimenti do un altro giretto di filo di ferro perché ovviamente più è stretto e soprattutto più è vicino alla corolla e meglio è ho dato un'altra stretta ecco qua adesso mi mancano solamente che andrò a posizionare qui e fissare sempre con lo stesso sistema ecco qua ecco qua ecco qua